Che cos'è la libertà? La libertà è una condizione interiore che non può essere cercata all'esterno, può essere avvicinata, può essere conquistata e questo avverrà per ognuno nel momento in cui riuscirà a superare le barriere fra i propri desideri e la propria condizione interiore, soltanto nel momento in cui egli riuscirà veramente a comprendere se stesso. Che cos'è la libertà? La libertà è una condizione interiore che non può essere cercata all'esterno, può essere avvicinata, può essere conquistata e questo avverrà per ognuno nel momento in cui riuscirà a superare le barriere fra i propri desideri e la propria condizione interiore, soltanto nel momento in cui egli riuscirà veramente a comprendere se stesso.